Associazione a delinquere, turbativa d'asta, corruzione, falso, induzione ad aree e promettere denaro e d'altre utilità negli appalti post-terremoto. Accuse pesanti per la cricca che lucrava sulla ricostruzione abruzzese individuata dal Corpo Forestale dello Stato, dei comandi dell'Umbria e dell'Abruzzo, con indagine denominata Earthquake. Esplosa ieri e dalla quale è scaturito l'arresto per sette tra pubblici ufficiali, tecnici progettisti e imprenditori residenti a Perugia, Gubbio, Assisi, Pescara, Popoli e Bussi sul Tirino. 11 avvisi di garanzia e un sequestro preventivo di 330.929 euro, somma ritenuta profitto di reato di corruzione. In particolare sono tre gli Umbria arrestati, Stefano Roscini, imprenditore, 49enne, nato a Foligno e residente a D'Assisi, attivo nel settore degli impianti tecnologici dell'editoria, avendo collaborato al progetto editoriale, durato appena sei mesi, del nuovo Corriere Nazionale. Giampiero Piccotti, eugubino di nascita ma residente a Perugia, ex colonnello dell'esercito che secondo gli inquirenti avrebbe avuto un ruolo di rilievo nel piano Abruzzo. Ed Angelo Riccardini, geometra eugubino ed ex consigliere comunale di quota N, dalle cui intercettazione è partita l'inchiesta che, oltre che dei tre membri Umbri, ha portato all'arresto anche dei quattro abruzzesi, Angelo Melchiorre, Antonio D'Angelo, Emilio Di Carlo e Martino Scancella. Le indagini hanno preso il via dalle dichiarazioni dell'imprenditore Umbro, sentito dagli investigatori della forestale, aggiudicatario di tre appalti per la ricostruzione degli aggregati edilizi del comune di Bussi sul Tirino, per un valore pari a 8 milioni, a cui il direttore dei lavori avrebbe richiesto la corresponsione di una tangente, in denaro pari al valore del 12% degli appalti da dividere con altri tecnici coinvolti. Le successive intercettazioni e perquisizioni presso le sedi Umbre della Società di Costruzioni e le acquisizioni documentali presso gli uffici tecnici della ricostruzione del cratere Aquilano, hanno fatto scoprire al Corpo Forestale dello Stato l'esistenza di un piano, definito dagli stessi indagati nelle loro comunicazioni interne, piano Abruzzo, finalizzato a gestire in modo unitario e sistematizzato l'attività della ricostruzione degli edifici, interessati dal sisma del 2009. Le dichiarazioni di un altro imprenditore Umbro, che ha già presentato richiesta di patteggiamento, ha permesso agli inquirenti di corroborare il complesso impianto accusatorio e d'apprendere che lo stesso pubblico ufficiale si era fatto distaccare per tentare di turbare la gara pubblica per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ricostruzione ex novo di una scuola elementare materna, quella di Bagnara.